Cominciamo con la mascherina, cominciamo col togliere la mascherina che però dobbiamo portare tutti. Finalmente siamo di nuovo a teatro. Noi siamo qui al Maggio Musicale, in questo teatro nuovo con questa acustica splendida, dove proviamo a mettere in scena la traviata di Verdi. Un invito a tutti. È terminato? Non è ancora terminato? Vediamo la luce in fondo al tunnel. Diciamo che ritornare a teatro è proprio vedere la luce in fondo al tunnel di questo disastro che ci è capitato. Quindi un invito a tutti a venire a teatro, che sia naturalmente il Maggio Musicale Fiorentino, dove c'è la traviata diretta da Zubi in meta. Io cercherò di fare la mia parte. Che posso fare? Cerco però di non dimenticare una cosa, scusatemi la citazione, che scrisse l'autore dell'originale della pièce teatrale, Madame d'Ale Camellie. Perdiamo tutti i vizi al mondo, non perdiamo il vizio di vivere e di venire a teatro, aggiungo io. Lo disse Dumas. Io sottoscrivo. Venite, venite a teatro. Grazie a tutti.